Guardate queste bellissime immagini, è l'ultima partita, quella della promozione in serie D dell'Aregas. Guardate come è colorata ed affollata la curva sud. Io quel giorno ero allo stadio. Io voglio rivolgere un appello alla dirigente dell'Aregas e Peppe Deni. Qui abbiamo le parole di Deni al momento della promozione. Non lascerò la società, ho visto bambini piangere per questi colori. Adesso io ho una proposta che formulo pubblicamente e chiedo a tutti i tifosi di sostenere. L'Aregas assieme al teatro Pirantello, cioè a un ente pubblico, deve gestire e organizzare i concerti nella Valle dei Templi. La risorsa del demanio che è di tutti noi, di Piano San Gregorio, come luogo bellissimo, unico in Italia, importantissimo in Europa, come sito dove organizzare eventi musicali nazionali e internazionali, deve essere gestito a beneficio degli agrigentini e non dei privati. E allora, Peppe Deni è un imprenditore che sa il fatto suo, è riuscito a portare l'Aregas in Serie D. Io mi rapporto con lui da più di un anno e mi sono occupato della sua idea, a mio modo di vedere, geniale che va appoggiata, di organizzare una serie di concerti nello stadio Esseneto e di utilizzare gli ingassi dei concerti per la squadra di calcio. Deni fa fare lo sport ai ragazzi, ai bambini. Sono centinaia i bambini che grazie all'Aregas vengono tolti dalle strade e da situazioni poco gradevoli per tutti e avviati a una sana passione, quella che ho avuto io fino ad oltre 50 anni, il gioco del calcio. Oggi dobbiamo registrare l'ostruzionismo del sindaco Miciche che ha impedito a Deni e all'Aregas di utilizzare il campo Esseneto che ha bisogno peraltro di importanti lavori edilizie e di ristrutturazione. Ma abbiamo un'altra possibilità, ancora più bella ed importante, fare organizzare i concerti nell'area addemaniale della Valle dei Tembli all'Aregas assieme all'ende pubblico Teatro Pirandello. Si può fare una iniziativa comune, sono due strutture in grado di fare questo e molto altro e i soldi che entrano utilizzati per lo sport degli agrigentini e per le casse del comune di Agrigento. Io rivolgo pubblicamente alla presidenza dell'Aregas e alla presidenza del Teatro Pirandello questo appello e mi metto a disposizione per ogni battaglia. Quello che sentite in questo video, che sto per concludere, lo trasfonderò in una lettera pubblica che invierò al vertice del Teatro Pirandello che ha così bene operato quest'anno e al vertice della società sportiva Agregas. Vi ringrazio. Sosteneteci!